A maggio 2009 questo suolo fu affidato dall'amministrazione Emiliano a un'associazione che si occupa di bambini malati e a un gruppo di pet therapy. Cinque anni dopo al posto del nastro c'è una catena di acciaio che recinta l'area e al posto degli ulivi un campo incolto. Tanto che i residenti dell'executive center hanno deciso di organizzare una controinaugurazione. Queste dovevano essere le aree destinate a standard per la residenza, quindi dovevano consentire a questa piccola comunità che sono i 2000 cittadini di Bari di poter vivere meglio. Noi, sia pure con qualche problema, avevamo accettato che fosse fatto qualcosa, invece è stato fatto il niente. I condomini, avendo saputo che l'associazione ha ottenuto un altro suolo, vogliono riprendere in mano il vecchio progetto e rivederlo. Ci proponiamo qui, senza cambiare molto il vecchio progetto già approvato, ma diminuendo i volumi previsti, speriamo di poter realizzare qualche impianto sportivo all'aperto, un piccolo asilo nido. Ad ascoltare le ragioni dei residenti è arrivato il candidato sindaco di centrodestra, Mimmo Di Paola. Chiedono che si faccia ciò che si doveva già fare, tra l'altro con un'associazione che loro vanno a costituire senza fini di lucro, che si farà carico anche della realizzazione di questi interventi, quindi a costo zero per il Comune, credo che sia una cosa assolutamente da autorizzare.